Oppure non vi danno il punto, cioè la classica esultanza da stadio, da pallone, proprio sta proprio male Qua sembrate quello che è lì, ho fatto il scatato, ho finito, aspetta un po', guarda un po', chi è malato il giù, chi è malato il minuto, insomma, è veramente sì Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale Oggi in questo video voglio parlare con voi, voglio tirare fuori un argomento un po' noioso Noioso ma molto simpatico, le falsità dell'agonismo, vai Sì ragazzi, le falsità dell'agonismo, le falsità, le cose strane, le cose veramente, secondo il mio avviso, tristi che si vedono in gara Qualsiasi gara, federazione di promozione, qualsiasi club, organizzazioni in cui si fanno gare C'è sempre questa risvolta triste che si ritrova sempre nell'agonismo Non c'entra la gara, kata o kumite, ma queste cose strane si trovano quasi sempre Allora, andiamole un po' a vedere, io ne ho stimate all'incirca una diecina con un bonus finale Allora, in pole position partirei con la gara dello sputacchino Voi direte, ma Massimo, sei impazzito oggi? No, non sono impazzito Allora, avete presente il Kimè? Ragazzi, il Kimè lo conosciamo tutti, sappiamo tutti cos'è Tra l'altro ho fatto anche un video sul Kimè Avete presente la medaglia d'oro agli Olimpiadi di Ryukyuna? Tra l'altro ho fatto un video anche di questo, guardatelo se non l'avete visto male Ragazzi, il Kimè, oggi e oggi giorno abbiamo cambiato il Kimè col verso dello sputacchino Sì, perché anziché fare il buon Kimè, il sound che deve fare, la giacca che abbiamo È tutto cambiato, si fa E io l'ho chiamato la gara dello sputacchino Cioè, chi sputa, secondo me, più lontano vince Quindi si trovano questi ragazzi, ragazzi, insomma Anche gente attempata che in gara, anziché fare il classico suono che fa il karategi Lo camuflano e che non gli viene Allora lo camuflano e fanno un sound tipo simile Con questo verso strano che sembra veramente uno sputacchino Quindi Si sente tutta sta gara qui con questi vimbetisti ragazzi E non si capisce veramente che roba è E tra l'altro la cosa triste è che i giudici magari valutano Cioè, è interessante questa cosa qua Questo sputa più lontano, questo fa il verso più forte E gli diamo magari un mezzo punto in più Per non parlare poi del verso del canarrabbiato E lui dice, ma come il canarrabbiato Sì, il canarrabbiato Tutti sti gesti, sti suoni strani Che a mio avviso, poi scrivetemi nei commenti se sono andato un po' fuori di testa Ma dovrebbero essere fatti con la contrazione dell'addome Dove c'è il chiave, dove ci sono delle tecniche forti Allora chiaramente fatte bene dall'interno Con tutto il discorso giusto che bisogna fare Col fruscio del karateki E nient'altro Cioè, tutti questi versi che vengono così fuori, inventati Come fosse un film A mio avviso sono proprio tristi Per non parlare poi del classico colpo in terra Nelle ultime gare a cui ho portato i miei ragazzi Ho notato una nuova moda Una moda che forse io sono andato un po' più sub Con gli anni, i miei tempi, non c'era tanto C'era lo sputacchino, c'era i miei tempi Ma questo qui proprio non c'era Cioè, il battito continuo del piede interno Cioè, ogni tecnica che si fa Specialmente se siete in un torneo dove c'è il tatami sul parquet Fate un figurone Un continuo boom, 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 boom Battere il piede Cioè, ogni tecnica batto il piede, batto il piede, batto il piede Insomma, sembra di essere all'interno di una carpenteria pesante di legno o ferro A seconda della specialità Non è proprio il massimo Per poi arrivare Questo però c'era già anni fa Alla classica tecnica dove si dà il colpo sulla giacca Cioè, fate lo sciuto, non lo fate normale Dovete dare il ritorno E vi date il colpo Fate il giacuzuki E vi, sentite? E, ecco E vi date il colpo Vi date il colpo Poi chiudete la mano Non so, poi si vede che ha virato il colpo Però se lo fate abbastanza veloce Senti qua Wow, cavolo Che potenza, che forza No, quello è un rimbambito Che si dà i colpi su tutto il corpo E fa comunque un figurone Questa è un'altra tristezza del comitè Non puoi guardare Poi dopo, ragazzi Alla fine della prova, per esempio, di katà Mentre avete finito il vostro katà Fate il saluto Siete ioi Aspettate gli arbitri della giuria Che tirano fuori i cartelli Io questo è un consiglio che do Poi chiaramente ognuno fa come vuole Ci mancherebbe altro E ragazzi L'atleta che è di turno lì sul tatami Si inizia a guardare intorno A destra e a sinistra Pensando Allora, questo è un altro 7-8 Questo è un altro più simpatico Quello è un altro di meno E insomma, sta male A mio avviso Quando uno finisce la gara di katà Io sto parlando di katà Dovebbe stare fermo Aspettare Quello che ti danno Quello che ti danno E basta E uscire il saluto E uscire fuori E semmai dopo Commentare con il coach In maniera sobria Come è andata Come non è andata Perché poi alla fine Se avete fatto bene O avete fatto male Lo dovete sapere Voi Cioè, lo deve sapere Se lo deve sentire Quello che ha fatto il katà Non guardare Come dire Ah, mi ha promosso Mi ha bocciato Sembrate i bimbetti alla scuola Che vanno fuori I miei tempi Ora non si può più C'era fuori scritto Ammesso Non ammesso E qui uguale 7-8 7-6 Ah, quello mi era più simpatico Ah, già mi aveva promesso Mezzo, molto di più Vabbè, lasciamo stare E quindi Insomma, sembrate quello Che è lì Ah, ho fatto il katà Ho finito Aspetta un po' Guarda un po' Chi è Chi mi ha dato di più Chi mi ha dato di meno Insomma, è veramente triste E poi veramente maleducato Questo però Me ne darete tutti ragione Uscire Senza andare indietro Ma girando la schiena Alla giuria Tanto i voti me l'hanno dato Primo sono arrivato O ultimo sono arrivato Chi se ne frega Girate la schiena Uscite dal tatame E io anche le ultime gare Che ho visto ultimamente Gente che fa proprio così Mentre esce Fa sta cosa qua Cioè, è veramente Scorretto E brutto E non educato Al punto di vista Proprio del karate Della morale del karate Quindi evitate Secondo me Questo Provete a darmene atto Brutti gesti Commenti Brutte parole All'arbitro Ma quello era così Quella cosa È brutto in gara O come è brutto Per esempio I coach Che vanno dietro Mentre ragazzi E' a fare la gara di katà Andare dietro All'arbitro Mare all'arbitro centrale E poi Quello è mio Quello è mio Ah questo sta sbagliando Cerchiamo di essere Un pochino più professionali Questo è il discorso Del coach Però anche l'atleta Insomma Questi brutti gesti Tipo fare così Veramente È triste 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 Ok ragazzi Per esempio Andiamo sul discorso Del kumite Il discorso del kumite Lo sappiamo tutti Non voglio approfondire Il discorso tecnico Del kumite Perché non è il video adatto Però per esempio Quando vi danno il punto Oppure non vi danno il punto Cioè la classica esultanza Da stadio Da pallone Proprio Sta proprio male Cioè a mio avviso Se avete vinto Deve essere sobri Contenti Nel vostro interno O passibili O se avete perso Non vi hanno dato il punto Avete perso proprio il match Ma niente Senza fare smorfi Uscite senza tanti discorsi Cioè è inutile esultare Sia nel bene Che nel male Cioè bisogna essere sempre sobri E sempre pensando Che stiamo facendo Un'arte marziale Quindi bisogna essere marziali Fino in fondo Sobri e distinti Quindi in caso di vittoria O in caso di perdita Dell'incontro Non c'è problemi Voglio dire Neanche che vanno ammazzati Vi siete rovinati Finanziariamente Vi dovete sparare Quindi non è successo nulla Se avete vinto bene Se avete perso bene Cioè non cambia niente Quindi Queste cose da stadio Gente che visto Vince le gare Può fare il classico scivolone Da attaccante del pallone In ginocchioni Così L'arbitro Coce anche lui A bordo da Tami Che iniziano a saltare A fare briganza Sta male Secondo me Non è rispettoso Neanche se avete vinto Rispetto al vostro amico Che era di là Che era il vostro competitor Questo è una brutta Secondo me Un brutto comportamento Da non ottenere Durante le fasi di gara Un altro aspetto ragazzi Che è importante Secondo me Un altro consiglio Poi chiaramente Fate come volete Portare i bambini Si parla i bambini Cinque, sei Massimo sette anni Cinture gialle Che magari portano Giron Portano in piccata Alti Che di solito Si fa una cintura nera Secondo me Non è la strada giusta Da affrontare Si vedono purtroppo Anche queste cose qua Parlando con amici Tecnici Organizzatori di gara Ora hanno messo Dei tetti Alcuni Alcune federazioni Alcuni enti Hanno messo dei tetti Cioè Sei tot Il colore di cintura E tot catà E questi catà Devi portare Perché se no È diventato Un mescolone Allucinante Secondo questi bambini Cinque, sei anni Che poverini Bimbi Amorosi Non sanno neanche Dove sono Si mettono lì Fanno sto cion Non sanno neanche Di cosa Stiamo parlando Però Il maestro di turno Avido di gara E di medaglie Rovina E porta avanti Certi tipi di discorsi Pur di portare a casa La medaglietta Della parrocchia Quindi sta male E secondo me Non si dà neanche Un giusto input tecnico Al bambino Di cinque e sei anni Che fa un gioco Immaginate voi Come lo possa fare Ma di cintura gialla Fa dei movimenti Avanti e indietro Non sa neanche dov'è Ma se è svegliato Mezz'ora prima C'è un quel caffè Il latte in bocca E insomma Non è il massimo Non parliamo poi Del discorso Del palloncino Allora non voglio denigrare Il circuito del palloncino Perché secondo me Da un lato È divertente È simpatico È un buon Attrattiva Per i bambini Avvicinare Il discorso delle gare Perché capisco Che magari Non tutti i bimbi Capiscono E imparano I kata Nei tempi stabiliti Quindi vogliono Fare la garetta Lo stesso Il genitore È felice Di portare i bimbi Alle gare I kata Però magari Non li sanno fare Non gli piace Eccetera eccetera Gli si fa fare Questo palloncino È un discorso Un circuito Compiato un po' Dal judo Però Se io vi devo dire Proprio la sincerità Ragazzi Sembra un po' Un agility dog Non mi è rampiata male Ma a me Principalmente Proprio Non piace Anche perché Si parla sempre Di fare questo Percorso Facendo dei controlli Quindi mi sembra Viene premiato Non mi interesso Neanche bene Del regolamento Perché proprio Io non li faccio Non porto i ragazzi A questi tipi di gare Anche se mi piace Non voglio commentare Troppo negativamente Ma si cerca sempre Di fare questo controllo Sul palloncino Che è al contrario Di quello che io pratico In palestra Perché ragazzi Io già ai ragazzotti Li faccio fare il makyuwara Quindi voglio vedere Al makyuwara Un po' di impegno E un po' di tecnica Fondata Quindi è un po' Un controsenso Però capisco Che sinceramente È un buon percorso È un buon lavoro Per far divertire E far capire i ragazzi E farli entrare Nel mondo Dell'agonismo Però mi assomiglia Tanto un po' Della agility dog Anche lì genitori Applausi Eccetera eccetera Poi un consiglio Posso dare un po' Anche chi viene a vedere Le gare di karate Ragazzi All'ultime gare Si è visto anche La tromba Quella proprio da stadio Non è il mao O cori O cori sulle tribune Immaginate voi Uno che sta facendo Un kata difficilissimo In gara Sul tatami Che si sente le trombe I cori Coriando Insomma È un po' Triste Però la cosa Più triste Veramente Che ho visto Nella mia umile carriera Di karateka Ragazzi Ha delle finali Di campionati del mondo Non vi dico dove Le sigle Classica gara finita Medagliere Ancora Se vede che poi A fine delle gare Avanzano sempre le medaglie Sul tavolo Delle premiazioni Visto io gente Proprio visto io Dico gli occhi miei Prendere le medaglie Portarsele via Mettere un po' Via sotto banco Quindi rubarle Per poi dopo Fare degli articoli giornali O esporle in palese La tizia ha vinto questa Ha vinto quella Invece erano proprio Gare rubate Purtroppo ragazzi In gara Si vede anche questo Siamo arrivati alle 10 Cose un po' più tristi Che ho visto Di mia esperienza Ma vi voglio lasciare Un bonus finale Vai Allora ragazzi Bonus finale Ero un po' indeciso Tra la medaglia rubata O questa qua Allora Oggigiorno ragazzi I cugini Non se ne possono più dire Perché Sui social Tutti mettiamo le foto Dei nostri ragazzi In palestra Eccetera Eccetera Il bonus finale È veramente Tristissimo Ragazzi Gente che ha anni Che è cintura nera Perché ha fatto gli esami L'ha pubblicata Ha fatto articoli giornali Un 3x2 Sempre sui social Come mai Come mai Come mai Alle gare Vanno sempre con la cintura blu E vincono E vincono Perché chiaramente Sono cinture nere Ma rifanno un buon Che ne so Yang Godin Di Shotokan Vanno Vanno in gara Sempre con la categoria Verdi e blu E chiaramente Per anni E per anni E per anni A nastro Vi vincono Oh mal che vada Si piazzano sempre Fra i primi 3-4 Sul podio Però in effetti Effettivo Sono cinture nere Perché si vede L'ha pubblicato L'ha fatto gli esami Quindi secondo me È un po' triste Cioè uno deve andare Con la propria cintura Far la gara Con la propria cintura Come va va Non è un problema Però ragazzi Da nera Passare blu Per faricere la gara Della barrocchia Dietro casa Ragazzi È veramente Triste Triste Arriviamo alle conclusioni Amici del tempo Siamo arrivati alla fine Di questo video Lasciate i commenti Iscrivetevi al canale E se non avete visto Gli ultimi miei video Sul karate Spacca anche Sui peggiori maestri Del karate italiano Che sono dei video Simpatici Oggi ho voluto fare Questo video Un po' Che ho voluto Un po' Attaccare il mondo L'agonismo Non sono un fan Dell'agonismo Lo faccio L'ho fatto Porto i ragazzi In gara Anch'io Come tutti voi Se insegnate Ma non sono proprio Un fan Perché di solito Si vedono sempre Queste cose brutte Che vanno un po' In contrasto Con la mia filosofia Del karate Comunque ragazzi Lasciate i commenti Iscrivetevi al canale E ciao Dal tempio massimo Grazie a tutti Grazie a tutti